Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge, alla ricerca delle profondità estreme. L'orologio da polso Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge rappresenta l'apice dell'ingegneria orologera e della sfida umana nelle profondità oceaniche. Questo orologio è stato progettato appositamente per affrontare le condizioni più estreme delle profondità oceaniche. Il Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è un orologio straordinario che spinge i confini dell'orologeria subacque a nuove vette. Con una resistenza all'acqua eccezionale fino a 12.000 metri, questo orologio è in grado di sopportare pressioni che sarebbero letali per la maggior parte degli esseri umani. La sua cassa sovradimensionata e le tecnologie innovative di tenuta lo rendono un compagno affidabile per le missioni subacquee più avventurose. Esplorare le profondità oceaniche è da sempre una sfida epica. E il Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è stato creato per affrontare questa sfida con determinazione e stile. L'orologio Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è dotato di numerose caratteristiche innovative che ne fanno un capolavoro di ingegneria. La valvola di elio, la lunetta girevole unidirezionale e l'illuminazione luminescente di alta qualità sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo orologio altamente funzionale per le immersioni subacquee profonde. La valvola di elio, in particolare, è una caratteristica chiave che permette di evacuare l'elio accumulato durante le immersioni in camere di decompressione, evitando danni all'orologio. Questa funzione è fondamentale per i subacquei professionisti che si immergono a profondità estreme. Il Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è strettamente legato a una delle imprese subacquee più celebri nella storia dell'esplorazione marina. Nel 2012, il regista ed esploratore James Cameron ha stabilito un record straordinario, raggiungendo la profondità di 10.908 metri nella Fossa delle Marianne. Durante questa spedizione storica, il prototipo del Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è stato montato all'esterno del batiscafo Deep Sea Challenger, pilotato da Cameron. L'orologio ha dimostrato la sua resistenza estrema a pressioni oceaniche incredibili, fornendo dati vitali per la ricerca oceanografica. Questo evento straordinario ha ispirato Rolex a produrre e presentare il tanto atteso Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge nel 2022, a cui è stato dato il nome del batiscafo guidato da Cameron. Che tu sia un subacqueo professionista alla ricerca di un partner affidabile nelle missioni più impegnative o un appassionato di orologi che cerca una pièce de resistance nella sua collezione, il Rolex Sea Dweller Deep Sea Challenge è una scelta che non deluderà mai. Alla prossima. Ho! Ho! Grazie a tutti.